Rifiuti scoperti e multati altri 23 sporcaccioni immortalati dalle telecamere e multati dalla polizia. Per contrastare l'abbandono di rifiuti strada gli agenti hanno installato delle telecamere che in un lasso di tempo relativamente breve hanno permesso ai poliziotti di riprendere e identificare i conducenti di 23 veicoli nell'atto di abbandonare abusivamente rifiuti strada. In totale sono state combinate circa 14 mila euro di sanzioni amministrative. Biviere, terra dei fuochi, fondi a rischio. Ci sarebbero circa 22 milioni di euro per gli interventi di risanamento nell'area del biviere che non riguardano solo le attività di bonifica. Di questi soldi però la Regione non ha mai autorizzato l'uso. Ora i rischi è che possano essere trasferiti su altri capitoli di spesa lasciando al proprio destino l'intera zona protetta. Porto, maxi progetto mai trasmesso all'UE, al sapore dell'ennesima beffa la comunicazione inviata al Comitato Proporto della Direzione Generale della Politica Regionale Urbana dell'Unione Europea. La Regione non ha fatto pervenire nulla, crollano dunque tutte le rassicurazioni politiche di questi anni, mentre sembrerebbero a rischio anche gli interventi di dragaggio, coperti invece da circa 6 milioni di euro dalle compensazioni aeree. Enaip, la formazione diventa lavoro. Questa mattina sono iniziati gli stage presso quattro strutture locali per i 24 aspiranti assistenti familiari del corso Enaip. Sandra Benici, direttore dell'RSA Caposoprano, promette assunzioni più meritevoli, stage anche all'Aias, Ipa, Baldisio e i girasoli. Lo sport, weekend negativo per lo sport gelese, fine settimana da dimenticare per lo sport gelese, nel calcio in eccellenza il Gela Football Club ha perso a Mascaluccia 2-1 in seconda categoria, deludente pareggio per il Gela di Mirko Faustana con uno scialbo 0-0 contro dalle stabili della Rocca. Nella serie C Silver di Palacanestro è ancora una sconfitta interna per la Melfast Gela Basket contro il Consul. Bentrovati con questa nuova edizione del nostro telegiornale. 23 sporcaccioni sono stati immortalati dalle telecamere, multati dalla polizia. Per contrastare l'abbandono dei rifiuti in strada, gli agenti hanno installato telecamere che in un lasso di tempo relativamente breve hanno permesso ai poliziotti di riprendere e identificare i conducenti di 23 veicoli nell'atto di abbandonare abusivamente i rifiuti in strada. In totale sono state combinate circa 14.000 euro di sanzioni amministrative. Gera Italia. Ancora una volta i furbetti del sacchettino finiscono immortalati dalle telecamere nell'atto di gettare per strada i loro rifiuti. L'occhio del grande fratello stavolta è quello della polizia di Stato che nell'arco di poche settimane è immortalato e pesantemente sanzionato ben 23 sporcaccioni. Gran parte delle immagini raccolte dalle videocamere nascoste degli uomini del commissariato di via Calogero-Zucchetto riguardano zone periferiche e sembrerebbe anche il quartiere balneare di Manfria. Tra i preferiti dai praticanti dello sport del lancio del sacchetto è più volte finito sotto l'attenzione di altre videocamere, quelle installate dall'associazione Viviamo Manfria. Per contrastare l'abbandono di rifiuti in strada, intanto, gli agenti con l'ausilio del Gabinetto regionale della Polizia Scientifica di Palermo hanno installato delle telecamere gestite in remoto dagli uffici del commissariato che in un lasso di tempo relativamente breve hanno permesso ai poliziotti di riprendere ed identificare i conducenti di 23 veicoli nell'atto di abbandonare abusivamente rifiuti in strada. Diversa la tipologia dei rifiuti abbandonati con prevalenza di quelli urbani domestici. Da auto e furgoni i trasgressori si fermano con estrema naturalezza sul ciglio della strada di una zona periferica della città, da dove lanciano in strada sacchi, sacchetti, cartoni, tubi e monopattini rotti, arrivando persino a svuotare direttamente a terra interi bidoni di rifiuti. Un film purtroppo già visto. Appena qualche mese fa vi avevamo raccontato delle sanzioni elevate, sempre grazie alle riprese delle videocamere da parte della Polizia Municipale. Oggi tocca la Polizia di Stato che in pochissimo tempo ha già multato tutti i furbetti ripresi. Per l'abbandono indiscriminato dei rifiuti ogni cittadino rischia sanzioni che vanno dai 300 a un massimo di 3.000 euro. Alle 23 persone identificate dalla Polizia di Stato a Gela è stata applicata la sanzione amministrativa di 600 euro, equivalente al doppio del minimo. In totale sono state combinate circa 14.000 euro di sanzioni amministrative. I controlli della Polizia di Stato in quest'ambito proseguiranno. I furbetti del sacchettino sono avvisati. La cronaca. Un incendio la notte scorsa ha danneggiato il furgone Iveco Daily di un commerciante. Il fuoco ha colpito il mezzo nella parte anteriore. I poliziotti e il commissariato hanno avviato accertamenti. L'ipotesi più concreta è che l'incendio sia stato appiccato. Il mezzo era parcheggiato in via Gentile nella zona di Fondo Iozza. Da diverso tempo i roghi notturni si erano fermati. Sono partite le indagini. Biviere, terra dei fuochi. I fondi sono a rischio. Ci sarebbero circa 22 milioni di euro per gli interventi di risanamento nell'area del Biviere che non riguardano solo le attività di bonifica di questi soldi. La regione non ha mai autorizzato l'uso. Ora il rischio è che possano essere trasferiti su altri capitoli di spesa lasciando al proprio destino l'intera zona protetta. Rosario Cauchi. L'area della Biviere da anni ormai è un territorio dove mancano del tutto i controlli e gli operatori della riserva orientata si trovano a fronteggiare illeciti di ogni tipo. È una terra dei fuochi, come abbiamo abbondantemente spiegato, dove si bruciano scarti pericolosi e rifiuti di ogni tipo, compresi i resti delle produzioni serricole. Ci sarebbero circa 22 milioni di euro per gli interventi di risanamento che non riguardano solo le attività di bonifica. Di questi soldi però la regione non ha mai autorizzato l'uso. Fino ad oggi non è stato speso neanche un euro. E lo spiega Emilio Giudice della riserva orientata. Un blocco totale, nonostante le terre a ridosso del lago, siano sempre più in mano a pochi che smaltiscono rifiuti e bruciano ad ogni ora del giorno. Una bomba ecologica, come più volte spiegato da giudice e dagli operatori che si occupano dell'area. Durante i tavoli tecnici al Ministero, Anche se non c'è stata un'indicazione precisa in questo senso, si è fatta strada alla volontà da parte della regione di spostare questi soldi. Sarebbe una mossa in totale contrasto con il piano di gestione e con quello di risanamento. Lo spiega Emilio Giudice. Qualora la regione autorizzasse lo spostamento dei fondi verso altri capitoli di spesa, allora i rappresentanti della riserva potrebbero anche decidere di rivolgersi ai tribunali competenti, tra discariche abusive e incendi che rilasciano sostanze pericolose in atmosfera. L'area del biviere è ancora lontana dal risanamento, previsto da precisi piani approvati dalle istituzioni. È una zona a rischio. Anzitutto la discarica di idrocarburi, accertata con le verifiche fatte in passato, andrebbe isolata e messa in sicurezza. Emilio Giudice lo ha già spiegato ai tavoli istituzionali. I rappresentanti della riserva però chiederanno che si prevedano delle fasce di tutela, così da allontanare le serre dalle acque del lago. Il Ministero, secondo Giudice, deve imporre alla regione l'applicazione del piano di risanamento, altrimenti sarà possibile chiedere il commissariamento. Anche i corsi di acqua della zona in molti casi sono trasformati in siti di stoccaggio di rifiuti pericolosi. Gli operatori della riserva però si sentono soli. Quella sui fondi è una battaglia che non bisogna smettere di combattere, aggiunge ancora Giudice. Purtroppo lo facciamo da soli e senza il sostegno dell'amministrazione comunale, che invece sembra seguire la linea della regione. Questo il commento. Dopo uno degli ultimi tavoli tecnici al Ministero, è stata chiesta a Giudice una dettagliata relazione sullo stato dell'intera zona. Al Ministero pare non sapessero praticamente nulla, nonostante Gela sia da decenni un sito classificato come SIN. Serve una verifica in prefettura su rischio crolli nelle scuole superiori. Con la sicurezza degli studenti non si scherza, dicono i sindacati. Dopo quanto accaduto all'Istituto Luigi Sturzo, con un crollo interno che ha messo fuori uso alcune aule, i sindacati puntano ad un'analisi molto più ampia dello stato di salute, piuttosto precario degli istituti scolastici della città e del territorio provinciale. Si investe pochissimo nelle manutenzioni di edifici che sono ormai risalenti. I risultati si vedono, sono un rischio fin troppo elevato. La richiesta di incontro è stata avanzata alle singole scuole della CGL Cisleguil. Allo stesso tempo, mercoledì 20 novembre, gli studenti della città saranno in piazza per chiedere più visibilità e maggiore sicurezza negli ambienti scolastici che li ospitano quotidianamente. Per i sindacati, troppi istituti del territorio sono ai limiti della soglia di agibilità. Porto Maxi, progetto mai trasmesso all'Unione Europea, il sapore dell'ennesima beffa, la comunicazione inviata al Comitato Proporto della Direzione Generale della Politica Regionale Urbana dell'Unione Europea. La regione non ha fatto pervenire nulla. Crollano dunque tutte le rassicurazioni politiche di questi anni. Molte sembrerebbero a rischio, anche gli interventi di dragaggio, coperti invece da circa 6 milioni di euro delle compensazioni a Niger Italia. Mentre è sempre più in dubbio il rifacimento del braccio di ponente, arriva un'altra doccia fredda sulla vicenda Porto. Il progetto della mega d'arsena commerciale, il progetto da 140 milioni di euro, non sarebbe mai arrivato in Europa. La notizia arriva come un fulmine a ciel sereno dalla Direzione Generale della Politica Regionale Urbana dell'Unione Europea, nella stessa settimana in cui si discute ancora dei fondi del patto per il Sud sfumati e della possibilità che possano saltare anche gli interventi di dragaggio, coperti invece dai circa 6 milioni di euro delle compensazioni Eni. A rispondere a stretto giro di posta al Comitato del Porto, che chiedeva l'Umi sullo stato d'avanzamento dei finanziamenti europei per il progetto della mega d'arsena, è il responsabile Pasquale D'Alessandro. Poche righe per dire però che del maxiprogetto del nuovo Porto, da quasi 150 milioni di euro, non c'è traccia nella tabella dei grandi progetti da finanziare con i fondi del POR Sicilia FESR 2014-2020. Non c'è nessun finanziamento o richiesta di finanziamento per questa darsena, per quanto riguarda i finanziamenti questi qui che dovevano dare per questa darsena. Nel frattempo rischia di saltare anche l'intervento al Porto riguardo al braccio di ponente. Oggi c'è un importante incontro in protezione civile per cercare di capire se questo braccio di ponente può rientrare nel piano demaniale marittimo, ma anche lì si era detto che era tutto pronto. Anche lì in questo caso non c'è niente di pronto. Questa cosa fa ridere perché penso che oggi a capire se un braccio si può fare o non si può fare ci vuole, penso, pochissimo. Non servono cinque anni per capire se un braccio si può fare o non si può fare. Bastava dirlo già sin da subito che non si poteva fare e avrebbero provveduto a fare uno scavo fatto serio, così noi almeno avremmo potuto lavorare. La Regione dunque, al di là di ogni proclama, secondo Di Pasquale, non avrebbe fatto pervenire nulla agli uffici della UE e dal Maxi Progetto a Bruxelles non ci sarebbe alcuna traccia all'ennesimo schiaffo in faccia agli operatori portuali che non l'hanno certo presa benissimo. Siamo molto delusi, però non sorpresi. Per quanto riguarda la Darsena, già in mesi che si sapeva che c'erano delle difficoltà per quanto riguarda il megaporto, ma ne abbiamo contezza del fatto, è una cosa automatica, matematica, se non sono riusciti, la politica non è riuscita a risolvere il progetto, diciamo, un piccolo escova del portorifugio, figuriamo parlare di grandi opere come il megaporto. Noi non siamo sorpresi, lo sapevamo, ora ne abbiamo contezza perché ci è arrivata risposta dall'Europa. Mentre oggi a Palermo si sta discutendo di come riuscire a salvare il progetto del rifacimento del braccio, il comitato è pronto a giocarsi le ultime chance al tavolo del prefetto. Abbiamo già nuovamente interpellato su eccellenza il prefetto, quindi attendiamo la convocazione per vedere un po' la situazione come della questione del porto, visto che non abbiamo risposte positive dalla regione siciliana. Intanto per la città sembra concretizzarsi l'ennesimo flop di un'opera che la politica tutta ha cavalcato negli ultimi anni, ma che non risulta neanche inserita nelle tabelle. Come aveva già spiegato appena un mese fa il deputato europeo Ignazio Corrao che nelle prossime ore annuncia nuovi approfondimenti sulla vicenda. Non avrebbe dichiarato la proprietà di almeno quattro immobili, secondo il PM della Procura, per evitare di essere escluso dal programma di cantieri di servizio destinati ai lavoratori RMI. Un operaio che ha prestato la propria attività per conto del Comune adesso deve rispondere in tribunale di una presunta truffa. La difesa ha più volto e sostenuto che l'operaio non avrebbe mai avuto la proprietà di quegli immobili, ma solo un sufrutto. Si sarebbe trattato di pertinenza di scarso valore. Nel corso delle verifiche, come ha spiegato dai testimoni, sarebbero emersi i minimi introiti ricevuti da altri familiari dell'operaio, numeri che verranno ulteriormente verificati e che potrebbero incidere sul verdetto finale. Cambiamo argomento. Enaip e la formazione diventa lavoro. Questa mattina sono iniziati gli stage presso quattro strutture locali per i 24 aspiranti assistenti familiari del corso Enaip. Sandra Benici, direttore dell'RSA di Caposoprano, promette assunzione ai più meritevoli stage anche all'Aias, Ipa Baldissio e i girasoli. Luca Madonuco. L'Enaip propone il sistema duale puro, garantendo uno sbocco copazionale ai corsisti più meritevoli, formati in classe e abilitate al lavoro con stage in azienda. È questa la carica di ottimismo che muove i 24 iscritti al corso di assistente familiare, promosso dall'Enaip di Caltanissetta e finanziato dall'assessorato regionale al lavoro e alla famiglia, diretto da Antonio Scavone. Saranno impegnati per complessive 120 ore a mettere in campo quanto studiato a stretto contatto con i pazienti ed il personale delle strutture sanitarie private accreditate dalla Regione. Tra tutte l'RSA Caposoprano, dove Sandra Benici, direttore amministrativo, promette lo sbocco occupazionale per i corsisti più meritevoli. L'RSA di Caposoprano dà risposte al territorio. In un momento in cui la disoccupazione è un tasso molto elevato, noi, grazie sia al professore Garufo che si occupa di formazione e noi in questa prospettiva di poter anche assumere qualcuno che eccelle nella sua professionalità. Sono stata ben lieta di ospitare questi corsisti perché mi rendo conto che ad oggi la formazione è importante e questi corsi tentano a formare degli ottimi professionisti per poi inserirli nel mondo del lavoro. Il mondo dell'assistenza è un mondo in evoluzione perché grazie all'alluncamento della vita dell'uomo la necessità di figure professionali come quelle di oggi che sono l'assistenza alla persona è estremamente importante. Per il direttore delle NAEP di Caltanissetta, Giuseppe Garufo, impegnato in città a promuovere corsi col sistema duale puro, si tratta di un nuovo traguardo ma anche di una conferma considerati i contratti di assunzione ottenuti presso l'Ascot. Abbiamo 25 corsisti che sono presenti nelle varie strutture che sono quattro e sono l'RSA Capo Soprano, Andonietta Aldisio di Gela, il Girasole che è una casa famiglia e l'Aias sempre di Gela. Tutte queste strutture sono state ben predisposte ad accogliere i nostri corsisti che toccheranno con mano come si assiste un paziente in stato di bisogno. Noi ce la mettiamo tutta, speriamo di riuscirci ad entrare in questo mondo lavorativo. La cosa migliore però più che altro è dare sostegno a questi anziani. Oggi abbiamo iniziato con il primo giorno di tirocinio. Posso dire che sono abbastanza soddisfatta perché ho imparato alcune cose del settore. No, oggi ci siamo resi conto che è molto diverso la teoria dalla pratica. Anche abbiamo fatto quelle poche cose, non è la stessa cosa di studiarle in un video, in una fotocopia. Oltre alla RSA Capo Soprano, dove sono impegnati sette stagisti, il corso di assistente familiare prevede la formazione tra le corsie delle strutture sanitarie IPA-Baldisio, i Girasoli e del centro Aias di Borcomanfria. C'è anche una talentuosa ballerina gelessa nel cast di Amici 2019, il fortunato talent di Maria De Filippi. Sofia Di Benedetto è una nuova concorrente del format delle Redie Mediaset, formatasi presso la scuola di danza di Marcella Virgilio. Sofia ci aveva approvato anche in passato, ma senza alcuna fortuna. Insistito anche quest'anno e dopo tanti casting, ecco la selezione decisiva. Sabato pomeriggio le esibizioni decisive che hanno formato le classi del talent artistico più famoso delle reti televisive nazionali. Per la 23enne è decisiva la sfida di ballo contemporaneo. Passiamo alla cronaca giudiziaria. Omicidio Sotti, giudici della Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta. Lo scorso luglio hanno rideterminato la pena imposta al Nisce Mese Giuseppe Cilio per l'omicidio del giovane Orazio Sotti. 24 anni di reclusione a fronte dell'ergastolo, deciso invece dalla Corte d'Assise. In primo grado sono state depositate le motivazioni che hanno indotto i giudici nisseni ad accogliere, seppur in parte, la tesi difensiva. Rosario Cagli. Non ci fu premeditazione nell'agguato che uccise l'allora 22enne Orazio Sotti. Il giovane venne colpito a morte dai proiettili di una pistola che sarebbe stata impugnata dal Nisce Mese Giuseppe Cilio. I giudici della Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta lo scorso luglio hanno rideterminato la pena imposta all'imputato. 24 anni di reclusione a fronte dell'ergastolo, deciso invece dalla Corte d'Assise in primo grado. Sono state depositate le motivazioni che hanno indotto i giudici nisseni ad accogliere, seppur in parte, la tesi difensiva sostenuta dal legale di Cilio, l'avvocato Salvo Macri. A questo punto la difesa si prepara a portare il caso in Cassazione. Dopo l'istruttore a fiume di primo grado, anche in appello sono emersi ulteriori particolari di un omicidio per anni avvolto nel mistero. La giovane vittima non aveva mai avuto rapporti con la criminalità organizzata, nonostante il metodo usato per l'esecuzione facesse pensare ad un'azione di mafia. Gli investigatori hanno battuto altre piste fino a quando i poliziotti dell'aliquota e quelli del commissariato, coordinati dai PM della procura, non sono arrivati a Cilio e al fratello Salvatore, assolto però in primo grado. Sotti sarebbe stato ucciso per ragioni sentimentali, l'imputato non avrebbe accettato il fatto che il giovane ammazzato davanti al garage di casa a fondo iozza avesse avuto relazioni con la sua fidanzata di allora e con quella del fratello. Un impeto che l'avrebbe spinto ad armarsi e a fare fuoco decisiva è stata la volontà della famiglia Sotti intenzionata a trovare una verità nonostante i tanti anni trascorsi. La donna che la notte dell'omicidio si trovava insieme a Cilio ha confermato di averlo accompagnato nella zona di fondo iozza ma non avrebbe assistito a quello che accadde successivamente. Nella decisione emessa vengono confermate le statuizioni in favore dei familiari del giovane ucciso costituiti parti civili con gli avvocati Giuseppe Cascino Francesco Minardi e Maria Cascino per i legali così come per la procura generale andava confermato l'ergastolo la corte d'assise invece ha escluso la premeditazione riducendo notevolmente l'entità della condanna in secondo grado le parti valuteranno le motivazioni appena depositate probabilmente potrebbe essere la Cassazione a mettere la parola fine su un call case ricostruito ad anni di distanza Sotti venne raggiunto a morte dai proiettili nel dicembre di 19 anni fa Il comune deve far fronte a un debito che ormai ha sfondato di molto il muro dei 16 milioni di euro somma è dovuta al lato per i conferimenti della discarica a Timpazzo e fattosi sempre più consistente durante gli anni per questo motivo il sindaco Lucio Greco ha inviato una nota al commissario Panebianco dicendosi disponibile ad una transazione sentiamo Fino allo scorso aprile sembrava che Comune e Ato Celle 2 fossero in addirittura di arrivo la transazione per coprire il maxidebito vantato da Palazzo di Città nei confronti dell'ente in liquidazione era data quasi per ultimata il comune deve fare fronte ad un debito che ha ormai sfondato di molto il muro dei 16 milioni di euro somme dovute al lato per i conferimenti nella discarica a Timpazzo e fattosi sempre più consistente durante gli anni nel corso degli ultimi mesi con l'avvento in municipio dell'amministrazione greco della transazione si sono perse le tracce probabilmente anche a causa del cambio di guardia a Palazzo di Città intanto però Comune e Ato si fronteggiano davanti al giudice del tribunale delle imprese di Palermo Ato con l'assenso del commissario liquidatore Giuseppe Panebianco ha avviato un'azione giudiziaria chiedendo che il credito venga coperto per intero per le casse del municipio sarebbe un colpo quasi letale per questo motivo il sindaco Lucio Greco ha inviato una nota al commissario Panebianco abbiamo informato il liquidatore dice Greco che c'è la volontà di aderire ad una transazione ma in base alle condizioni già definite in passato significa che l'amministrazione comunale non vuole discostarsi dalla linea seguita sia dall'ex giunta messinese anche se quella transazione non venne mai ratificata che dal commissario Rosario Arena il debito verrebbe coperto dal comune accollandosi per 30 anni le spese della gestione post mortem delle vasche della discaricata in pazzo destinate al fermo Greco attende probabilmente un riscontro dato anche se il commissario Panebianco e i suoi tecnici da mesi stanno cercando di capire quali possano essere le intenzioni dell'amministrazione lo stesso Greco spiega che comunque sono state date tutte le direttive al legale che rappresenta il comune nella causa già avviata il debito che grava sul municipio e di quelli che potrebbero seriamente mettere in difficoltà gli equilibri finanziari qualora non si raggiungesse un accordo sulla transazione Un performer gelessa invece nel cast il collegio è il formato che va in onda su Red 2 ogni martedì sera giunto alla sua quarta edizione nell'immaginaria classe del 1982 Carmelo Trainito entra come docente di breakdance la sua specialità dalle strade gelessi a Milano il passo è stato ampio ma il performer vive ormai stabilmente nella metropoli lombarda dove lavora e insegna proprio breakdance in diverse scuole di danza le mie specialità sono l'acrobatica e la power move spiega Carmelo da qualche anno insegna break in alcune scuole di danza presenti a Milano e provincia per trasmettere la passione ai ragazzi lo vedremo domani sera e il prossimo martedì Nulla da fare per il Gela Football Club al buon aiuto somma di Masca Lucia gli etnei vincono 2-1 con un gol per tempo Catania si affida al solito 4-4-2 con Sherra e Alabiso in attacco e Brasile inizialmente in panchina Bianca Azzurri di casa in avanti dopo il 38esimo minuto con Belluso la squadra di Cacciola colpisce 3 Legna e il Gela Football Club va negli spogliatoi con la speranza di poterla riprendere Nella ripresa però un calcio di rigore assegnato al Masca Lucia taglia le gambe ai giallorossi di Catania Randis dal dischetto non sbaglia nel finale però Tony Sherra segna il suo primo gol stagionale con una potente conclusione dal limite dell'area di rigore Il forcing finale però non produce lo sperato 2-2 In classifica il Gela Football Club rimane in fondo alla classifica con un solo punto all'attivo Gela deludente solo un pareggio un punto che non soddisfa quello rimediato dalla squadra di Mirko Faustana in seconda categoria malgrado abbia attaccato per tutta la partita la formazione bianca-azzurra è apparsa sterile poco lucida adesso la testa della classifica è distante 5 punti sentiamo Un pareggio che delude quello rimediato dal Gela al Mattei contro l'Alessandria della Rocca un 0-0 che allontana pericolosamente la squadra bianca-azzurra dalla testa della classifica del gironee del torneo di seconda categoria adesso distante 5 punti i ragazzi di Mirko Faustana hanno sbattuto per tutta la partita contro il modulo tutto difesa e contropiede degli agrigentini che hanno giocato solo per non prenderle non tirando ma in porta sul fronte opposto hanno deluso in tanti mezza salme è rientrato dopo tre settimane ed è apparso il ritardo rispetto ai compagni Costarelli ha giocato a corrente alternata mentre Nassi a 42 anni è stato l'unico che si è battuto tra i centrali difensivi ospiti provando a spizzare di testa per i compagni centrocampo confusionario e corsie esterne oggi impalpabili neanche l'ingresso dello stesso tecnico nella ripresa ha cambiato la musica poche le occasioni con ingravidi sempre pronto sulle conclusioni di mezza salma giarrizzo e Costarelli nella ripresa in mezzo decine di cross angoli e calci da fermo sbagliati o regolati agli avversari e l'alibi delle squadre che si chiudono inizia a non bastare contro il Gela sarà sempre così per cui occorre trovare rimedi tattici e in fretta perché la classifica è come nessuno si aspettava sono superate con tante armi no assolutamente noi squadra una società di leggezza per noi dei campi possiamo cercare di andare avanti fare il punto possibile e poi dovremmo intervenire insieme alla società di fare qualcosa per rinforzare la squadra per rinforzare le parti anche noi dovremmo realmente bisogno il basket l'Olimpia Comiso vince la settima partita della stagione contro una Melfast già è la basket sempre più in crisi nella sfida tra le due neopromesse brillano i biancazzurri di coach Davide Ceccauto superiori per tutto l'arco della gara hanno lasciato ben poco ai gelesi l'ex Giovanni Occhipinti è stato ancora una volta trascinatore così come accaduto nella finale playoff dello scorso anno e ha realizzato ben 24 punti il primo quarto si è chiuso con un meno 11 per il quintetto di Bernardo a riposo lungo Comiso e ha già doppiato i biancorossi partita senza storia nella ripresa Comiso in testa insieme a Virtus Ragusa e Alfa Catania quota 14 Gela con un solo successo all'attivo con lo sport si conclude anche questa edizione del nostro telegiornale per tutti gli altri approfondimenti vi rimandiamo al quotidiano di Gela.it grazie per averci seguito per averci seguito Grazie a tutti